Quando si assembla un gruppo e si portano i giocatori che in determinante realtà sono stati determinanti, importanti, l'ambientamento può essere non immediato, può trovare delle difficoltà, però dobbiamo comunque partire da un concetto, da un valore assoluto e dobbiamo cercare di ritrovarlo. Chiediamo che nel caso di Daniel sicuramente è un ragazzo che per struttura fisica ha bisogno di tempo, ha bisogno di lavorare, quest'anno poi ha avuto anche un ritiro un po' particolare dove effettivamente probabilmente non l'ha fatto nel miglior modo, quindi sicuramente i tempi si dilatano, è altrettanto vero che Daniel magari ha giocato da titolare le prime tre e dopodiché ha fatto qualche spezzone, quindi sotto quell'aspetto lì sicuramente dovranno essere bravi a metterlo nelle condizioni per recuperarlo, lo sto già facendo perché sinceramente almeno io che vedo gli allenamenti tutti i giorni a condizione di danni è sicuramente migliorato, sono convinto che da qua in avanti potrà solo più migliorare anche sul tempo la sua presenza e la sua capacità di darci la mano.